a destra dell'obelisco siamo noi vieni qua siamo adesso noi siamo qua a destra dell'obelisco ma c'è il mech lo vedi stai scendendo beh il mech è bello grosso ma io lo so cieco quindi non ho restato bene ghiaccio ghiaccio eccolo qua mettetevi due sacchi a pelo eh eh lo guardati lì li metto per non c'è gli altri ce li ho io anche c'è lato eh dammene un paio perchè dici che non puoi esplorere? cioè vai dici che muovi non posso morire scusami no? si sono crassato non posso morire no? mi stanno arrivando tutti dei whatsapp buonasera la ringrazio per il suo ordine no una pire si no l'ho laggato ecco salve salve signor Sam ma è carino prego alleanza Dino dove stai? vieni giù ah si anche da me vieni qua dal tappeggara anche così ma il tappeggara non muore con un colpo si ah? oh oh è arrivato ragazzi Dino dove stai? c'è si dietro la zampa destra cazzo arriva 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 occhio 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 venite venite qua venite qua senti non minchiamo urlare non arrivavo al mech non arrivavo al mech c'è la com'è poi il punto è che non non mi carica la texture non vedo la corruzione si infatti anch'io non mi carica la texture lo vedo tutto triangolare aspetta eh lasciamo caricare vedo soltanto una cosa viola si però tutta qualcuno può sparare per dirci per meno dove sparare si ok la vedo si ah la vedo la vedo oh l'ho riportato dentro ok ok l'ho riportato dentro la vedo la vedo che faccio uno se lo colpisco si esatto si esatto 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 ahia i lupi mannaggia e poi la coda sotto la coda ci spiuto si la pancia la doppia è più facile da una parte eh a me non lo sta non l'ha ancora caricato sai aspetta che sta proprio dietro di me se muove quella coda si però ci stanno i lupi mi è l'aglie io ho solto un sacco si 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 c'è un 3% è anche un po' un macchallo questo eh è un po' un macchallo questo ok aspetta ok ho tolto uno pure io ok è pure la ragionista è più il coronavirus è gelato ho gelato cazzo è la caviglia l'unico buffo del valore no, da 3 faccio ma chi sta prendendo le mine scusate ma questo è girato vale che non è carica però ma gli hai fatto male faccio così? ok guarda qua c'è uno ma c'è un tuttile a pompa sì sì, io faccio colpo un po' il punto è che non mi carica però ma pure a voi non mi carica il dex ma delle volte non si vede poi vedrai che dopo si vede ancora a paggio l'ultimo oddio porca vacca oddio no, scusa c'è un bagazzo dentro oh che buon po' ah aspetta, aspetta che ne approfittiamo quanti uno vedo dice, come si capisce quando non c'è più la produzione sopra? sparisce a vuole ah si rompe 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 aspetta che deve tornare in mezzo ragazzi perché? si, favorito tornare in mezzo io mi mi torno in mezzo poi vedi a vista con finci quindi vedi qua mi torno in mezzo mi torno in mezzo se uno shadow me ah se sei vuole ok ti va danno a te però se è fermo, se è fermo che riesci a puntarlo, sennò non rischiare è difficile perché sono lenti, sono lenti poi anche i missili arrivare ma il scemo ho colpito un momento faccio lancio vicinissimo no lanciato storto eh no pensa che forse mi resta vicino ai conti no ok stavo scherzando faccio li vado dietro li vado dietro no sto scherzando ahori no 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 bello qui vieni davanti qua è gigante vado vado colpino si gira ricarico lo dopo più facile no si parte l'ultimo è approvato non c'è proprio non ci riesci ok un dato adesso spalla destra la vedo lag adesso inizierà a congelare a manetta e occhio ah è vero non congelate a me a me no spara più sto stronzo ah tu riscaldato è pila no aia 2008 e adesso devo lavorare bene il mac il mac sta più gara ma domani non girarsi sta merda appuntato però mettiti così della spalla si proprio quando ti sparo il giro non è possibile ma non lo dovrebbe dare l'avviso quando ti dice che torna al centro si 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 dopo come l'abbia spaccato questo lo facciamo un maianino poi c'era sul petto vedo no dopo 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 vediamo che l'ultima sul petto molto malato è infame oh speriamo che il king titan però non lo vedo così si 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 fatti vorrei quadirmelo ok 3 ecco ma giudice mia gelata oggi fa più male che ieri vai 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 ah vedi qualcuno che tankava serviva glielo buttavi sotto e questo stava lì a sparare su quello lì adesso ce l'aveva col tape li abbiamo rotta? fuori nooo nooo ecco adesso non l'ha detto centro marla eeeh bombi ora se sei fermo sta merda vado lo vedrai dopo vieni dico devo andare di la e lui vai di la aspetta oh cazzo di male la sala attacca 3 60 si oh ah è cool oh andato è andato sul petto adesso si come è brutto ma quanto è brutto tu è un triangolo si ha fatto il triangolare orribile dov'è che è? sul petto sotto nella pancia si vede malissimo cosa che mi sto facendo danno? il congelato ah sono congelato non so mi sto facendo dubbi eh no io non so lui ah l'inviato questo minchile elefante come? il punto che il punto è che io non riesco a togliere uno non riesco proprio a vedere eh è un posto un po' di merda troppo congelato eh anche perché se stai vicino lui ti congela anche se li è vicini il punto che a me lo è ancora mai aaaaaaah ce la con me oh non c'è tanto ah no eh ma chi il petto è drago di roccia no ma chi è che c'è drago di roccia verde? io eh che sta dai volti eh no ma non li fai danno ma il punto è vista lui si si ma lo sappiamo ah ma non ti preoccupare ah ma ma l'hai detto è la terza volta che lo facciamo in due giorni tipo il mio cane in due giorni congelato come nemmeno? ma è magliata ma tu ci metti? ok si riesce a colpire da no 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 si però io ancora mai una volta l'ho colpito però intanto lo si è mantenere abbastanza alto da vita eh che cazzo ce l'hai con me? eh ma se l'hai rifatta quando eh si ce l'hai rifatta abbiamo rotto un ultimo mondo oh cavolo dai appunto sono 154 li riesco a trovare dovrebbe starla su che è lui? la stendiamo sulla collinetta? no no lui dovrebbe essere un punto più alto oh ce l'ho con me ce l'ho con me non l'ho tirato non l'ho tirato non l'ho tirato io che era fermo gli stavano facendo i danni ho tolto il sacco va fuori va fuori va fuori va fuori ragazzi è stato indietro si 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 chi è il rosso? dobbiamo portarlo fuori? no no va dentro no no va dentro è fuori non ce l'ho con il rosso comunque quindi che il rosso vada in mezzo oh chi è che rompe? ecco allora va fuori dai oh ciao 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 ma grattelo 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 no no ma se vuoi venire viene se no non viene no no viene viene vieni ce l'ho qua a me vieni come via vieni come vieni bravo bravo dipende per la maniera vieni 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 fischiate il treco di roccia in centro così segui il treco di roccia non sei costante fermi vieni va stiamo spammando colpi però non riusciare ha senti Blickssiche ha affatto ehi senti alla vita guardate non so se non il suo danno essere un po' cosa è che di poco di danno vuoi che non colpiamo il centro e infatti perché si muove no quindi quando sarà abbracciato colpisce il braccio il colpo è ritardato quando io riesco a prenderlo la parte mia dovevi stare no spazzata no un congelato vai vai che buono è ormai andato dai lo vedo enorme un po' di vita un po' di vita un po' di vita un po' di vita lagga dai ok c'è un baggato sotto vai mi sono messo sotto di lui fermo magari guarda guarda non riesco ok un baggato guarda ma rimane così la vita quando ha ghiacciato bastardo è andato qui lo prende è andato io come siga fa dino fa dino ok si perchè adesso dobbiamo portarla su niente 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 così ah è più l'orex dove eri io è infatti no no il foresto nostro foresto nostro perfetto che bello vai adesso arrivo il brutto adesso arrivo il brutto io spero che lo carichi una vita minchia quanto poca vita che c'ho eh io adesso dovete prendere tutti un giga si la sono vado per andare anch'io per poter scortare il titano fin in cima ok e questo è gusto va bene no lui va fino là e ci troviamo là dalle ossa ci troviamo minchia se è pieno di roba porca puttana e alla fine c'era ancora più e alla fine c'era ancora più di più arrivo eh si è sparato dietro il giga non ci posso credere io l'ho detto eh fa uno fa uno fa uno perché sono troppo lenti siamo andando su arrivo eh lo tolgo io il giga dietro questo è così eh 7000 eh l'unico gigantosauro a livello 300 mi sono beccato io che c***o mi sovero mori io eh ah l'ho detto dico io si qua raga questo è dietro axel lì fa no lo sentito un giga qua che? questo è in piedi vado al mondo 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 vado davanti a noi chi siete? eh dai scampagnata dai prima di no le passi salve eh grazie è bloccato solo il cito si si attento non ci stanno altri giga 3 giga addirittura madonna che va a questo punto ho assunto avanti tetto i 18.000 perché va così proprio è bloccato si è affidato molto morì grande noia scappo ma ecco perché è nato gli amici 3 addirittura è perfetto tutto è in cima e sta in cima abbiamo stacchiappelli arrivo a primi lo metto qua mi mettete lo guidi no no quindi prima quando quando il tit il king titan non è attaccabile mando avanti gli stevo comunque aspettate che metto quel mio giro o no perché non si può muovere non so cosa facciamo la file di riverna la lascio qui vicino io la salvo e poi sempre c dove lo metto il mio giga ancora avanti ora così farà a io provo un mare a scaricare aggressivo non mi fare un prendo le teste barri e la roba che serve come te ne si no messa vabbè attacca il tuo obiettivo la stessa cosa qua intanto c'è un uomo l'hanno lasciato non lo metto non lo metto con quando volete oppure la oppure al massimo limandi i dai l'ordine di attaccare titano quando volete di tutto parto parto l'ordine di attaccare il titano non lo metto dietro io non può barri di vita quando mandare giga dimmelo dai andiamo ragazzi come si fa il comando per attaccare il titano avanti è l'unico e avanti ma torna mamma mia vai ho recuperato le vene delle vene dove stanno le vene perché girano attaccano ha recuperato tutta la vita tuttava il ghiaccio barotte mandati un rex per favore ragazzi dai ma perchè e non ma e non partono no i miei sono fermi i miei sono fermi eh per favore ragazzi mandati i giga malagato arrivo favio fallo attaccate qualcuno tuo è rimasto giù anche eh non partono ragazzi mi fa la vena no comunque ho fatto il pugno no sono cresciuto sono cresciuto non partono arrivano i nostri stanno arrivando attacca 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 attaccata bestia ok in che partito attaccati la vena per favore via l'avena tutta l'avena alla sinistra la vedete con la con la la fata la borsa con la vena ragazzi attacca attacca la vena perché state lì io non capisco in mat fool me li faccio danno io mi trovo qua mi sa di no eh no devi andare da un pistoletto con le spadate il ritmo di fa prima quello fuori capito si 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 stanno attaccando però ci vuole bisogna cavarvi una vera però non gli facciamo danno ma fa a me non fa danno no 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 a me non mi faccio danno devi fare prima quella fuori devi fare prima ok perfetto ok pugno occhio attenti guarda mi esplodo machbar mi esplodo machbar ah non lo so vedo tutto volante quella roba non lo so ciao rex attacca attacca questo fa male ragazzi state lontani spostate lì state lontani voi ah loro si muore lo stesso quante lontani voi va bene l'abbiamo l'abbiamo interrotto vedi bene bisogna sempre attaccarlo di continuo nooo ma la gatta sono cascato qui sotto dai che ci siamo a fare dai 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 tenete pulito 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 dagli animali ma quella barretta di lato a che serve a me è morto per il gil nec no a me ancora non lo so niente non credo di vita sono cascato di sotto perché ma la gatta di brutto ultimo comunque i 21 giga anche ah vena va bene va bene ho fatto un anno vedi a vedi vedi siccome non riesco a farlo ma direttamente andiamo subito a subito al centro no ma non gli faccio danno non gli faccio no c'è la vena c'è un corrotto qua sotto c'è un giga corrotti qua sotto no attaccare piccole prima prima ok ora che non gli facciamo anno guarda ei dovrebbero essi dovrebbero stati sti cosa di che tanto le altre 20.000 a chiudo con la pistola e nemica hai ragione io mi posso spostare lì brutto vario sbagliato ma ok io rifatto del rifatto del danno io sono ragazzi come giro vanno gli sto facendo vanno allogia ste la vera poco adesso chiamano la rima in l'aria suore quello del ghiaccio non c'è ricordo stai lì c'è stata libera porco cane ma sto diventa con quello del ghiaccio gli facciamo un botto di danno la rima ma quant'è tutta stai vai 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 piccia 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 ormai c'è un lato dai dai ti manca un attimo dai 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 dava alta taisi su ma troppo qualcosa mezzo e mezzo e mezzo ragazzi, tutti in mezzo, tutti in mezzo Quanto riconsuma? Oh, oh, oh Vedo tutto bianco Eh, non è buon segno Ecco, aspetta Aspetta Filmatino Tutto nero Non l'ho mai vista No, io questo no Ti prego, dai, ti prego Sì, l'è partita a me Odiamoci, va In silenzio, in silenzio E il gamma L'abbiamo fatto ragazzi Manca tutto l'altro Manca tutto il resto Manca tutto il resto adesso Assolutamente bellissimo Go on Take a look It's finally begun The arcs are coming home Each one carries with it The seeds of new life Plants, animals And humans And these seeds will take root Across the far corners of the world Once they do All that life will be unleashed From there It will spread Grow And thrive And this planet Our home Will bloom once more As for the rest of the infection Well The arcs can take it from here In time I'll purge every last bullet From its soil But make no mistake This is all thanks to you I'm just glad I got to see it Poi in italiana è un po' l'inglese giustamente No Look at that Sun's arising Bene ragazzi Questa è Extinction Bossing Gamma Io spero di riuscire a fare anche live Il beta E il E che cazzo Non si vede niente Un attimo Guasto tecnico Fare dicevo in Anche il beta Alfa Riuscire a portare il live Magari Proprio magari nel momento Che lo stiamo facendo Faccio startare la live così Senza preparazione Senza niente Magari mando un messaggino Di avviso nel gruppo di discord Quindi uniti più quanti di discord Ragazzi Vi aspetto Secondo la programmazione Innanzitutto su discord La programmazione la faccio oggi Ma non fa niente Quindi poi veniamo Ottimo di canalizzarci Grazie mille per la compagnia Tutte le riposte Riposte Mi raccomando Unite per discord Detto ciò ragazzi Vi auguro una buona Continuazione di serata Una buona continuazione di domenica Una buona fine di domenica Domani si inizia a lavorare Quindi forza Dai Che la supervivenza è dura È finita ragazzi Alla prossima